Ciao a tutti e bentornati nelle pillole al 92.000, oggi per lo spazio dedicato alle discoteche, su richiesta di serie ACT vi parlerò della discoteca Manteca e Mantechino di Catania. Prima però vi parlerò del disco pub Santeria e infine vi parlerò anche della discoteca Miró. E allora siete pronti? Vai con le pillole al 92.000 di oggi! Immaginiamo di tornare indietro di qualche anno e di passare un sabato sera a Catania. La serata comincia in un disco pub, il Santeria, in zona stazione, aperto come lounge bar dalle 21 alle 3 il venerdì, sabato e domenica, mentre gli altri giorni chiudeva alle 2, tranne il mercoledì che restava aperto fino alle 3. Dopo il preserata si è pronti per andare a ballare. Nella stessa zona del Banaker, su cui avevo fatto un video qualche tempo fa e di cui vi lascio il link in descrizione, con lo stesso proprietario, Aronica, sorgono il Manteca e il Mantechino. La discoteca Manteca si è consacrata come un punto di riferimento per la nightlife dell'intera provincia catanese. La struttura è una spaziosa ed elegante villa arredata con grande gusto. Si tratta di una location di classe, al cui interno si trovano una sala con pista da ballo, un'area bar e un incontevole giardino. La discoteca Manteca propone musica revival per un pubblico adulto ed elegante. Il Mantechino era invece celebre soprattutto per le serate del sabato over 25. Vediamo allora alcuni strati video partendo da questo, che è una presentazione di una serata del 2010 a Manteca di Catania One Night. Il Mantechino Il video completo lo trovate in questo video. sul canale YouTube di Catania One Night. Vediamo un Aftermovie del 2015. Il Mantechino Il Mantechino Il video completo lo trovate sul canale YouTube di Creative Life Studio. Vediamo anche un promo di una serata del Mantechino del 2011. Entrambe sono state chiuse qualche anno fa per fare spazio a ristoranti o ricevimenti al chiuso. Altra discoteca catanese era il Miró. Vediamo un estratto video di una serata con live sax di una delle ultime serate fatte. Il Mantechino Il Mantechino Il Mantechino Il Mantechino andiamo a provare la cera di un'esercizio io ti amo questo è un momento importante 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 è un momento importante